capisce perché i procuratori svedesi non potessero andare e fare un volo di due ore andare a Londra e praticamente nessuno lo capiva finché questi documenti hanno permesso di capire perché erano le autorità inglesi che dicevano a quelli svedesi non venite qui interrogatelo solo dopo averlo estradato e quindi la prima volta che si è scoperta la ragione di questa paralisi è stato proprio nel 2015 quando io ho ottenuto questa documentazione e non solo questa ho ottenuto anche documentazione che dimostrava che le autorità inglesi avevano scritto a quelle svedesi non pensiate che questa estradizione è trattata come tutte le altre oppure un'altra cosa che hanno scritto nel 2013 le autorità svedesi volevano chiudere l'inchiesta e le autorità inglesi sono di nuovo intervenuti hanno detto non vi azzardate quindi anche questo dà un'idea della dell'interferenza politica perché se era un'indagine svedese per quale ragioni le autorità inglesi dovevano andare a dire a quelle svedesi non vi azzardate dà un'idea proprio dell'interferenza delle autorità inglesi nel momento in cui io ho volevo andare a fondo cioè ho cercato di andare a fondo di capire perché le autorità inglesi interferiscono così tanto in un caso che non li riguarda nel momento in cui ho fatto questo cominciato a scavare le autorità inglesi mi hanno detto abbiamo distrutto i documenti a quel punto con gli avvocati abbiamo detto come avete distrutto i documenti rispetto di un caso in corso e loro sì abbiamo distrutto i documenti e da da allora io lotto per sapere perché hanno distrutto i documenti chi li ha distrutti esattamente quando come e eh dal duemilaquindici sono passati sei anni io lotto per avere accesso a tutta la documentazione perché anche se hanno distrutto quella parte ce n'è chiaramente tantissimo c'è tantissima documentazione che non c'è modo di avere cioè tu hai scritto ehm che ti vennero consegnati comunque vennero resi noti non so se vennero consegnati 519 fogli della procura svedese e 439 della procura della corona britannica contro però un carteggio che si immagina sia di settemila fogli sono quelli che non si sono mai più visti ma eh parliamo di molti più di settemila perché dalle stime si parla di eh sì quella è duemilaquindici cioè la corrispondenza a cinque a sei anni fa poi nel frattempo il caso andando avanti ce ne staranno almeno altrettanti quindi parliamo di almeno qualcosa come quindicimila ventimila pagine di documenti quindi parliamo un grandi di un grandissimo numero non poche centinaia questa ricerca non sono mai comparsi documenti da parte degli americani nei confronti dei britannici per esempio hanno eh mi hanno sempre negato l'accesso a quei documenti e io ho sempre fatto appello sono ancora in tribunale per averli quei documenti perché ci sarebbe poi la pistola fumante perché le pressioni che si hanno esercitato i britannici sugli svedesi sono l'effetto delle pressioni che probabilmente gli americani hanno esercitato sui britannici in tutta probabilità è ragionevole pensarlo perché se leggiamo i documenti come li ho letti io eh quello che eh vediamo eh è che discutono le autorità inglesi le autorità svedesi discutono di qualsiasi cosa eh dal tempo di Londra fino alla neve in Svezia ma non discutono mai delle richieste delle preoccupazioni di Julian Assange di essere stradato negli Stati Uniti che è all'origine di tutto il caso e all'origine della ragione per cui non voleva farsi stradare in Svezia ora è verosimile è possibile immaginare che le autorità svedesi e le autorità inglesi non abbiano mai una volta discusso del di questa non è credibile quindi ci deve essere per forza della corrispondenza e infatti questa mi è stato confermato cioè all'inizio avevano le autorità inglesi avevano provato a dirmi noi non possiamo né confermare né smentire l'esistenza di questa corrispondenza poi in realtà ehm questa corrispondenza esiste però non me la vogliono rilasciare quindi è per questo che io sto continuando a combattere in tribunale sia in Inghilterra sia Svezia sia negli Stati Uniti e sia anche in in Australia è certo tra l'altro Assange per un po' di tempo mi sembra un anno e mezzo lui dopo resiste libero tra virgolette in Inghilterra no godendo di alcune norme di garanzia e poi è costretto a rifugiarsi nell'ambasciato dell'Equador e solo nel duemila e sedici i procuratori svedesi svedesi decidono di interrogarlo esatto è questo che nessuno capiva perché dal duemiladieci che sta allora quest'inchiesta svedese che è all'origine della trappola in cui si è ritrovato la trappola nel senso che l'ha intrappolato a Londra eh non non parlo di un complotto io non sono una complottista eh e anzi penso che chi pensa in termini complottistici non capisce le dinamiche del potere proprio perché eh eh non capisce come si come è stata usata la legge contro di lui eh non sono stati usati i complotti è stata usata la legge con tutti i suoi cavilli per far sì che rimanesse a Londra confinato inizialmente in stato di arresto eh ai domiciliari per un anno e mezzo eh senza che mai lo interrogassero che è veramente cioè chiunque abbia mai seguito un caso giudiziario sa che eh il procuratore cerca di acquisire le prove cerca di eh interrogare i testimoni cerca di interrogare l'indagato cerca di interrogare le presunte vittime quando la memoria è fresca non dopo sette anni non dopo sei anni quando ormai la memoria eh dei fatti è molto evanescente quindi nessuno capiva perché non andavano interrogarlo bastavano due ore nessuno capiva perché non usavano gli accordi di cooperazione giudiziaria perché lui non si non è che rifiutava di essere interrogato al contrario lui si è messa a disposizione fin dall'inizio questa inchiesta è stata aperta il venti settembre del duemiladieci è stata chiusa dopo cinque giorni dal procuratore che eh dal procuratore capo di Stoccolma che aveva concluso che non c'era alcun reato di stupro e aveva derubricato tutto a molestie e era stato interrogato quindi lui si era subito prestato a essere interrogato poi dopo essere stato interrogato il giorno dopo un altro procuratore non quello che aveva chiuso l'indagine verso un altro procuratore di Gotteborg ha riaperto l'indagine per stupro e da quel momento lì l'ha lasciata per sei anni sempre la fase preliminare senza che mai si decidessero a a rinviarlo a giudizio oppure archiviare il caso era questa l'anomalia e era questa la ragione per cui non capì nessuno capiva perché c'era questa paralisi perché questa paralisi e nessuno la cosa altrettanto sconcertante è perché nessuno ha provato a cercare una spiegazione quando nel duemilaquindici dopo cinque anni io mi sono reso conto che nessuno aveva una spiegazione nessuno aveva cercato i documenti nessuno aveva cercato una logica in questo caso a quel punto ho detto ma qui bisogna richiedere le carte andare nelle giurisdizioni competenti e avere le carte del caso perché se non si hanno le carte del caso non si troveranno mai i fatti e quindi a quel punto è venuto fuori tutta questa interferenza degli inglesi sugli svedesi infatti non hanno neanche neanche nessuno ha provato a a dire no non è vero perché ho le carte nero su bianco quindi ho le carte e sto tutte queste cose che poi le hai pubblicate su diverse testate credo no in parte su repubblica quando ancora lavoravi con repubblica poi credo anche su altre testate internazionali le reazioni quali sono state le reazioni sono state innanzitutto finalmente tutti hanno capito perché ehm quello che nessuno riusciva a capire ora era chiaro era chiaro che c'era erano state le autorità inglesi il problema è perché sono state le autorità inglesi che tipo di interesse avevano in questo caso a quel punto eh io ho provato a cercare eh la documenta ho continuato a chiedere la documentazione abbiamo scoperto con gli avvocati che l'avevano distrutta questa documentazione e a quel punto tutti hanno capito che c'era qualcosa che non andava in questo caso perché addirittura perdonami se ti interrompo cioè sia gli svedesi che gli inglesi l'hanno distrutta o solamente una parte gli svedesi gli svedesi ha un mistero perché eh gli svedesi eh affermano che questa documentazione non c'è infatti sto eh ci sono ora ci sono cose legali che siccome abbiamo la causa in corso io mh non ne devo parlare finché non gli avvocati non hanno portato avanti la causa perché eh chiaramente ha degli aspetti legali che non devo discutere finché non vanno in tribunale. Cerchiamo questa cosa tu hai chiamato in giudizio dei governi? eh certo eh beh certo adesso c'è Stefania non è che tutti i giorni la gente s'alza e fa causa ai governi mi sembra una cosa abbastanza eccezionale no? Beh eh diciamo uno deve chiedere i documenti a chi ce l'ha allora chi aveva questi documenti ce l'aveva la procura di Stoccolma e quindi io ho fatto una causa contro la procura di Stoccolma per avere la documentazione perché me la negavano e sono andata eh primo grado corte d'appello e corte suprema eh il grado amministrativo perché il l'accesso agli atti non è una causa penale è una causa civile e in tutti questi tre gradi di giudizio io non sono riuscita a avere tutta la documentazione e adesso sto facendo di nuovo una nuovo un nuovo livello di eh battaglia legale perché perché adesso non possono più dire che non avevano non ci sono state comunicazioni con gli americani perché avendolo arrestato e avendo gli americani praticamente chiesto l'estradizione ora nessuno può negare che questa estradizione esiste e quindi in qualche modo ne devono aver parlato non è che eh ne parlano nella seduta spiritica quindi ci saranno le carte e adesso si possono rivelare quindi ho ricominciato a fare le cause scusa se concludiamo un attimo il passaggio rispetto agli svedesi perché gli svedesi nel 2016 si decidono a interrogare Assange però poi dopo aver interrogato archiviano esatto esatto quindi questo avrebbe dovuto risolvere la questione ma nel frattempo invece Assange è sotto diciamo botta per essersi sottratto alla agli arresti cautelari degli inglesi ed è chiuso nell'ambasciata dell'Ecuador allora il concetto è questo eh dunque che che cosa ha creato tutto questo pantano? Nel 2010 Wikileaks pubblica documenti esclusivi esplosivi che rivelano ehm la eh settecentomila documenti segreti del governo americano eh le autorità americane sono sotto shock mai successo prima che settecentomila documenti segreti del governo uscissero e venissero pubblicati l'unico precedente che esisteva erano stati i Pentagon Papers nel millenovecentosettantuno Daniel Ellsberg un un'autorità morale aveva scoperto che le autorità americane mentivano spudoratamente sulla guerra in Vietnam ma andavano a morire decine di migliaia di eh ragazzi quando sapevano benissimo che la guerra non l'avrebbero mai vinta perché avevano un'analisi di sette mila pagine top secret che diceva questo che quella guerra non c'era modo di di vincerla allora che fece Daniel Ellsberg prese questo report di sette mila pagine e la notte fotocopiò una per una sette mila pagine non esisteva internet non esistevano i documenti digitali quindi le fotocopiò una per uno e le consegnò ai giornalisti del New York Times e scoppiò un putiferio tanto è vero che eh l'amministrazione Nixon provò prima a fare irruzione dentro lo studio del suo eh prima provò a spiarlo le spiare le telefonate poi fece irruzione nel nel eh nello studio del suo psichiatra e preoccupata l'amministrazione Nixon che esistessero altre eh ci fossero altre fughe di informazioni compromettenti creò la famosa squadra dei plumbers quelli del Watergate l'Uatergate è nato proprio dalla preoccupazione dell'amministrazione Nixon che qualcuno facesse uscire informazioni compromettenti come aveva fatto Daniel Ellsberg quindi l'unico precedente nella storia degli Stati Uniti di una fugga di documenti eh segreti era nel mila novecentosettantuno con Daniel Ellsberg quando è arrivato nel duemiladieci Wikileaks e la sua fonte Chelsea Manning un soldato straordinario reagito per coscienza perché aveva letto eh diciamo aveva letto questi documenti segreti per anni aveva aveva diciamo vista la la faccia la faccia truce degli Stati Uniti dopo l'undici settembre e si era decisa a farli uscire invece che girarsi dall'altra parte a rivelare queste torture a rivelare tutto l'America che abbiamo conosciuto dopo l'undici settembre di George W Bush quindi quando Wikileaks inizia a pubblicare questi documenti gli Stati Uniti sono stato di shock settecentomila documenti sulla guerra in Afghanistan sulla guerra in Iraq il tablo della diplomazia tutte le schede detenuti di Guantanamo eh per gli Stati Uniti è uno shock senza precedenti e non li terrorizza soltanto il fatto che sono usciti ma li terrorizza che ci sono negli Stati Uniti esistono qualcosa come oltre quattro milioni di persone che hanno accesso a informazioni che vanno dal riservato fino al top secret e oltre il top secret quindi per gli Stati Uniti è eh il caso Wikileaks è un incubo dice abbiamo quattro milioni di persone che hanno accesso a informazioni segrete e tutti hanno visto questo eh hanno visto questi abusi dopo l'undici settembre hanno visto la l'America in che tipo di 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 guerra al terrorismo è scivolata con abusi terribili le torture le eh le extraordinary rendition le guerre eh tanti finanziamenti occulti a a dei gruppi terroristi sì beh quello diciamo sul sui documenti che eh hanno pubblicato quindi parliamo dei documenti sulla guerra in Afghanistan dei documenti sulla guerra in Iraq i cablo eh i documenti sulle scade di Guantanamo non c'è non non ci sono queste eh i finanziamenti terroristi ci sono per esempio gli assassini mirati con i droni c'è tantissima informazione su quello e ehm c'è c'è mh tutta la l'aspetto veramente scioccante della tortura c'è il fallimento della guerra in Iraq c'è il fallimento della guerra in Afghanistan che stanno lì da vent'anni senza risolvere assolutamente nulla insomma e eh il controllo e poi è parlato di tutte le cancellerie degli alleati tutti i documenti tutti i documenti di cablo che sono che eh se siccome ho passato un anno sui cablo quindi eh ho letto in particolare quattromila centottantanove documenti sull'Italia e il Vaticano e eh quello che rivelano è quanto la nostra democrazia sia completamente diciamo eh sia succube degli Stati Uniti dal punto di vista di eh di tantissime cose cioè da dal le pressioni sul caso a Buomar per esempio di in cui assolutamente gli Stati Uniti non eh diciamo quella è una storia che a noi ci rende orgogliosi perché siamo l'unico paese che ha inchiodato i ventisei agenti degli agenti della CIA responsabili per questo rapimento nel cuore di Milano in pieno giorno come nel Cile di Pinochet e ci rendo orgogliosi perché i nostri magistrati sono stati così bravi a individuare gli agenti della CIA inchiodarli trovare le prove portarli in tribunale condannarli fino alla sentenza definitiva poi arrivati al momento dell'estradizione però arriva negli Stati Uniti e non potendo fare pressione sui magistrati perché si rendono conto che sono drasticamente indipendenti che fanno fanno pressione sulla politica e alla politica dicono non estradateli se non volete rovinare i rapporti con noi non non fate procedere l'ordine del resto non inviato negli Stati Uniti e queste tutte queste pressioni sul sui cablo ci sono nomi cognomi tutte le le conversazioni quindi cioè questi cablo rivelano hanno messo in imbarazzo enorme le la diplomazia mondiale perché rivela tutto quello che c'è dietro le scene cioè un conte è a vedere a leggere le dichiarazioni pubbliche e poi andare a leggere quello che succede dietro le scene e lì sono tutti disponibili perché li hanno messi disponibili online quindi la pubblicazione di questi documenti non ha creato danni ad oggi non c'è un solo morto non c'è un solo ferito non c'è una sola persona finita in prigione non c'è una sola persona torturata che cosa hanno fatto questi documenti hanno messo in grave imbarazzo il governo americano e i paesi e tutti gli altri paesi con cui parlavano dall'Italia alla Francia lì ci sono le corrispondenze con 184 ambasciate nel mondo mi sembra 184 187 devo rivedere il numero quindi sicuramente è stato un grande imbarazzo per gli Stati Uniti però ad oggi sono passati dieci anni non riescono a citare un solo danno cioè non riescono a citare un solo esempio di persona uccisa ferita messa in prigione o torturata a causa di questi documenti quindi tutta la demonizzazione di Wikileaks e di Julian Assange che hanno messo in pericolo che hanno messo a rischio vite non ha alcun fondamento perché in dieci anni non sono riusciti a trovare un esempio di morto di ferito di torturato di imprigionato non c'è un solo esempio e se ne avessero trovato anche uno potete immaginare che fanfara con quanto in tutto il mondo sarebbe eh stata divulgato il nome il cognome le circostanze in cui era stato danneggiato era stato ferito o ucciso e invece non hanno portato un solo esempio in dieci anni quindi questi documenti non hanno messo a rischio una sola persona e del resto il lavoro che abbiamo fatto su questi documenti per togliere tutti i nomi delle persone potenzialmente a rischio sono stati pubblicati abbiamo lavorato eh lo so perché ho lavorato un anno su questi documenti sui cablo e abbiamo lavorato con una cautela veramente senza precedenti io non ho mai lavorato in quel non conosco e nessuno dei colleghi non solo io ma nessuno dei colleghi dei giornali internazionali che hanno lavorato su questi documenti hanno mai lavorato in quelle condizioni di sicurezza abbiamo lavorato in condizioni di sicurezza senza precedenti e eh di una pesantezza veramente tanti colleghi erano irritati le richieste che venivano fatte di sicurezza non non parlare dei documenti al telefono non inviare i documenti per email quindi ogni volta doveva mandare fisicamente di persona incontrare il capo redattore anche se il capo redattore era in capo al mondo non potevamo parlargliene al telefono non potevamo parlargliene per email non potevamo usare i computer online dovevano essere sempre disconnessi dalla rete dovevamo sempre portare con noi i computer non potevamo mai abbandonarli senza che non fosse presente qualcuno quindi potete immaginare che significa tutto questo è veramente lavoro pesante veramente un lavoro eh che ha richiesto ha richiesto un notevole sforzo fisico e mentale e e e in questo io eh ho la coscienza io e tutti i colleghi che hanno lavorato seriamente poi c'è anche chi non avrà lavorato seriamente però ho la coscienza pulita perché nessuno di noi ha mai preso alla leggera queste non abbiamo mai non abbiamo mai minimizzato sui rischi e eh è importante capire che ad oggi non c'è una sola persona messa a rischio di questi documenti quindi tutta questa propaganda che mettono vite a rischio non è fondata su nulla perché non gli Stati Uniti non sono riusciti a portare un solo esempio e al processo che è un solo esempio e al processo che si è svolto a settembre il primo grado Giuliana Assange è venuto fuori questo non c'è un solo esempio di persona danneggiata. Stefania Stefania ti interrompo un attimo grazie intanto per questa testimonianza devo dire incredibile per il lavoro che fai quotidianamente mh quali sono gli scenari che attendono eh Giuliana Assange? Beh gli scenari gli scenari non sono non sono ottimista perché eh allora lui eh in questo momento è in prigione una prigione di massima sicurezza eh che si chiama Belmarsh a Londra e eh è in attesa dell'appello perché in primo grado le autorità americ le autorità inglesi hanno negato eh l'estradizione ma questa estradizione è stata negata solo ed esclusivamente sulla base delle sue condizioni fisiche. Il rischio suicidio. Il rischio suicidio. La salute che gli hanno distrutto. Certo. L'hanno distrutta loro hanno hanno fatto sì che per dieci anni. Sette anni rinchiuso senza poter vedere luce come dire. Esatto. Sette anni rinchiuso dentro una stanza senza mai poter avere un'ora d'aria che noi la diamo insomma a la riina l'abbiamo data a gente che ha sciolto un bambino nell'acido insomma per anche i prigionieri delle prigioni di massima sicurezza hanno. Sì sono i peggiori carnefici tra l'altro Belmarsh hanno dei peggiori carnefici dell'umanità. Comunque è un principio umano dare un'ora d'aria a un carcerato eppure lui non ce l'ha avuta per sette anni. Quindi è chiaro che dopo sette anni la sua salute è compromessa e io dicevo spesso ai miei caporedattori io avrei dato di matto non dopo sette anni ma dopo sette mesi. Forse anche sette giorni devo dire. Ecco quindi eh quindi l'estradizione è stata negata in primo grado eh sulla base esclusivamente sulla base delle sue condizioni di salute. ora però gli Stati Uniti hanno fatto appello quindi ora c'è l'appello il problema il rischio è qual è il rischio? Che eh gli Stati Uniti possano farsi avanti e dire ok eh rischia lui ha delle condizioni di salute pesanti però noi vi garantiamo vi diamo delle garanzie diplomatiche che verrà trattato eh in modo molto umano che gli verrà assicurato gli verranno assicurate tutte le possibili eh possibili cure psichiatriche fisiche eccetera e che la corte d'appello inglese possa dire sì a quel punto se la corte d'appello dice sì eh lui si eh avrebbe la possibilità di fare appello alla corte suprema inglese e lì è tutto da vedere se la corte d'appello o su di suprema inglese dice sì se dice sì rimane ancora un'ultima speranza che la corte di eh la corte europea per i diritti umani perché anche se l'Inghilterra è uscita dal dall'Europa comunque rimane nel consiglio d'Europa e il consiglio la corte europea dei diritti umani è un organo del consiglio d'Europa per cui anche se l'Inghilterra fuori dall'Europa può eh Julian Assange può comunque ricorrere alla corte europea dei diritti umani e sperare che funzioni perché se non funziona viene stradato a quel punto e e rischia di passare la vita dentro un carcere di massima sicurezza che è lo stesso di El Chapo quindi eh è veramente allucinante veramente veramente allucinante pensare con una persona che ha rivelato crimini di guerra torture eh esecuzioni stragiudiziali con i droni eh possa finire passare la vita dentro una prigione di massima sicurezza come un criminale della peggiore specie è un prigioniero politico è un prigioniero politico a tutti gli effetti Assange è una è una causa cioè l'espionage act che è questa legge terribile del del 1917 del 1917 del 1917 che fu usata nel 1917 per ehm diciamo distruggere chi combatteva la prima guerra mondiale il dissenso alla alla guerra la partecipazione degli Stati Uniti alla guerra e eh successivamente eh è stata usata per colpire chi per colpire chi eh rivelava espire diciamola proprio così ma eh c'è un numero di incriminazioni diciamo che si contano sulle dita di due mani insomma in tutta la in tutta la storia ma mai questa cosa avrebbe dovuto accadere ad un giornalista però esatto è quello il punto no? La cosa tragica la cosa tragica è che nessuno dei criminali di guerra nessuno di quelli che ha commesso questi atti atroci torture eh esecuzioni stragiudiziali ha fatto un giorno di galera e chi invece li ha rivelati li ha denunciati per ragioni di coscienza invece passa la vita in galera o come Chelsea Manning che è la fonte ha passato prima sette anni in prigione con due tentativi di suicidio poi hanno provato a rimetterla in prigione per fare pressione su di lei in modo da avere cercare altre testimonianze certo altre testimonianza contro Chelsea Manning e ha provato di nuovo a suicidarsi alla fine l'hanno liberata perché se avessero avuto se fosse riuscita a suicidarsi sarebbe stata una macchia sugli per gli Stati Uniti ricordiamo che venne cazziata Chelsea Manning nel duemiladiciassette da da Barack Obama alla fine del suo mandato ma tu hai mai hai mai pensato alla possibilità che Trump potesse graziare Assange? No assolutamente non ho mai mai ritenuto una prospettiva realistica assolutamente mai creduto che fosse che sarebbe stato possibile perché io credo che è stata fatta molta pressione in quei giorni però no? È stata fatta molta pressione ma che eh che Trump perché Trump l'ha incriminato poteva non incriminarlo cioè alla fine Obama la ha tenuto sì ha deciso di per di continuare la per la sua perseguirlo insomma eh ha tenuto aperto quest'inchiesta per otto anni però non l'ha mai incriminato quindi alla fine eh Barack Obama ha rinunciato all'incriminazione ha sempre tenuto l'inchiesta aperta eh che è devastante è stato devastante chiaramente però non l'ha mai incriminato invece quando eh Trump ha eh attraversato Rubicone e l'ha incriminato a quel punto io ho capito che non sarebbero tornati indietro e temo che non tornino indietro non vedo che cosa non vedo che cosa perché loro gli Stati Uniti vogliono creare un precedente siccome sono certo allora questo potere è molto vendicativo cioè questa gente non risponde a nessuno la gente che va in giro a torturare che ha eh che uccide con i droni sulla base di informazioni segreti non risponde a nessuno questa gente qui è al di sopra della legge nessuno di loro ha fatto un'ora di galera un'ora nessuno quindi è un potere che non risponde a nessuno se non a chi ce l'ha appunto chi ha rivelato documenti segreti per farsi bello eh nel film Zero Dark Thirty per eh descrivere al al diciamo al al pubblico farsi bello di come avevano preso Bin Laden arriva l'auto informazione segreta non ha fatto non è stato neanche incriminato quindi non c'è come dice Julian Assange non si fa neanche più finta che la legge sia uguale per tutti no? Se lo rivela Chelsea Manning e l'inferno passa otto anni in prigione tre tentativi suicidi e Julian Assange centosettantacinque anni in prigione rischia. Se lo rivela invece qualcuno di loro come nel caso del film Zero Dark Thirty che era l'ex capo della scia Leon Panetta non risponde a nessuna legge non questo potere è al di sopra della legge. Maurizio vuoi vuoi fare una domanda a Stefania? Eh sì molto volentieri perché naturalmente eh è tutto molto interessante eh farei prima una una considerazione informazione eh sempre sul discorso del FOIA che naturalmente come diceva anche Stefania esiste anche in Italia dal duemilatredici eh specificare e chiarire ecco questa la considerazione che volevo fare che è un diritto che possono esercitare tutti i cittadini no? eh non è necessario né essere avvocati né giornalisti ogni cittadino in Italia eh può esercitare questo diritto. È chiaro che in Italia dal duemilatredici sono tanti i casi anche se una eh uno strumento ancora poco diffuso diciamo tra i cittadini e io addirittura diciamo come giornalista addirittura ci hanno fatto eh della formazione per per capire qual è questo meccanismo come usarlo eh stare attenti alle virgole stare attenti ai cavigli perché naturalmente perché naturalmente nel caso della pubblica amministrazione basta poco per vedersi eh eh queste queste richieste respinte eh oppure accettate oppure respinte con solite eh risposte tipo problemi di sicurezza eh sicurezza nazionale o segreto o quant'altro. e questo va bene scusate era il discorso eh del eh del foia in Italia eh quindi ricordo che è un diritto che tutti i cittadini possono eh esercitare e c'è addirittura un sito su trasparenzi mi sembra punto it in cui ci sono addirittura anche proprio un un vade meccanismo cioè che cerca di spiegare come fare al meglio queste richieste alla pubblica amministrazione e questo per quanto riguarda l'Italia eh una domanda sì certamente perché il racconto e il lavoro di Stefania è preziosa enorme eh eh anche una storia eh importante che che secondo me eh avrà eh molti eh continuerà ancora rimarrà eh di uno spessore sempre molto elevato eh eh io immagino Stefania eh l'impegno la fatica eh l'ansia lo stress eh volevo chiederti nel caso specifico del lavoro che stai facendo seguendo la storia di Assange eh con tutti questi paesi sappiamo e sai meglio di me eh quanto sono coinvolti i servizi segreti o comunque apparati eh ufficiali e semi ufficiali tu hai 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 avuto o hai paura? eh Stefania eh Stefania a svolgere eh questa lotta che stai facendo? No io non ho paura perché al mio è la mia professione non ho avuto degli episodi che erano chiare intimidazioni ma non per questo ehm è stato niente di eccezionale quando è stato necessario ho fatto le varie denunce alle autorità competenti eh quando sono stata spiata all'interno dell'ambasciata dell'Equador eh ho fatto delle ho appena fatto la denuncia penale e ecco non 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 mi voglio fare impressionare non mi sono mai fatta impressionare dalle varie intimidazioni che ho subito ma alla fine non sono eh intimidazioni non ho mai avuto minacce per esempio sono stata seguita in modo eh plateale eh per scopo di intimidazioni chiaramente ho subito una rapina anomala dove mi sono state portate via dei documenti importanti ho subito lo spionaggio dentro l'ambasciata dell'Equador ma ho fatto una denuncia proprio in questi giorni all'autorità giudiziaria e ci vuoi ci vuoi ci vuoi raccontare questa cosa Stefania? Beh è stata appena è stata appena eh mandata all'autorità giudiziaria è stata appena inghiata dagli avvocati e vediamo che tipo di di indagini farà l'autorità giudiziaria perché chiaramente sono questi fatti sono innegabili per fortuna abbiamo la documentazione per fortuna abbiamo la le fotografie di come hanno aperto i miei telefoni dentro l'ambasciata e abbiamo eh tutta una serie di di prove documentali per cui eh gli avvocati non hanno avuto problemi a fare una denuncia penale alla alla magistratura spagnola perché l'azienda che faceva si occupava della sicurezza era era si era spagnola perché eh anche se l'ambasciata era dell'Equador però eh trovandosi in una capitale europea eh se avessero scelto un'azienda di security ecuadoregna avrebbero avuto problemi ad aver i visti quindi hanno scelto direttamente un'azienda europea un'azienda spagnola e questa azienda spagnola ha appunto eh abbiamo hanno ritrovato la polizia spagnola ha trovato le foto di dei miei telefoni telefoni aperti delle mie chiavette USB con documentazione molto importante per fortuna era criptata e ancora una volta la criptografia mi ha mi ha protetto eh non è la prima volta perché quando per esempio nel duemilaquindici sono ho subito una rapina che io pensavo fosse uno scippo a Roma eh pensavo fosse un semplice scippo sono andata dalla polizia ho detto io devo denunciare uno scippo eh ho denunciato ho iniziato a verbalizzare e la polizia ha detto questo non è uno scippo questa è una rapina anomala e avevo documentazione molto importante per fortuna era protetta dalla criptografia e eh non l'hanno mai non l'hanno mai decrittata e questo io lo so per una serie di ragioni che non voglio ricordare perché voglio ricordare perché magari qualcuno che ci ascolta dice come mai ti hanno aperto il telefono perché eh uno dei presupposti per visitare Julian Assange nell'ambasciata d'Eguadorenna era quello di portare il passaporto e lasciare tutti gli dispositivi elettronici esatto però eh innanzitutto ehm innanzitutto nessuno mai mi aveva preso tutta la eh tutto lo zaino io ho fatto visita tante volte a Julian Assange dentro l'ambasciata e mai mi era stato sequestrato lo zaino con tutti i materiali eh io semplicemente davo il mio passaporto lasciavo il telefono e il telefono spento eccetera ma eh mai mi è stato sequestrato lo zaino come quella volta quindi in quell'occasione mi è stato sequestrato lo zaino io ho protestato perché avevo con me documentazione molto importante eh la guardia la l'ha detto alla sicurezza mi ha detto ma stia tranquilla non lo tocca nessuno e poi scopriamo che eh praticamente avevano eh praticamente avevano aperto eh preso tutte le mie chiavette USB eh preso tutti i caricabatterie tutti i registratori digitali tutti i telefoni che avevo eh e avevano fotografato tutto in modo seriale in modo minuzioso tutto quello che avevo e avevano aperto i telefoni e fotografato le sim il codice e-mail che è il codice è una sorta di targa che identifica in modo unico il telefono e negavano quando abbiamo mostrato le foto dicevano ma boh sappiamo eh come mai poi la polizia ha fatto una perquisizione a causa a casa del titolare dell'azienda e non solo ha trovato armi e cose varie ma ha trovato anche eh file con queste immagini insomma e abbiamo fatto una denuncia alla procura spagnola a Madrid e stiamo aspettando chiaramente che facciano le indagini aggiuntive per capire chi ha dato l'ordine perché che cosa cercavano e chiaramente per perché chiaramente vengano puniti perché non può passare che uno io ero identificata come giornalista sapevano benissimo che era una giornalista e hanno chiaramente hanno cercato di accedere alle informazioni quindi io voglio capire se ci sono riusciti visto che erano criptati e chi eh ha dato l'ordine dove sono i documenti e cose varie. Sì eh non so se avete un'altra domanda Glauco Maurizio per eh a me su Glauco ce n'avrebbe un miliardo da quello che non voglio prendere gli spazi diciamo comuni per esempio a me interesserebbe molto capire come si è svolto il rapporto all'inizio e perché è mutato con le grandi testate giornalistiche che in un certo momento hanno dato spazio alla pubblicazione delle delle insomma dei rapporti no c'è stato un momento in cui delle testate giornalistiche molto importanti tra cui poi anche Repubblica in qualche modo dopo ripubblicavano il capito questo che che significa un appoggio sostanziale da parte del mondo dei grandi media tu ci stavi dentro sicuramente comunque molto a ridosso più di di tantissimi altri che cosa è successo cioè ci sono state delle pressioni sugli editori probabilmente che perché poi alla fine queste grandi testate hanno hanno fatto tutto cioè hanno ritirato il sostegno e poi sono diventati anche contro qualche in qualche modo. Allora io stavo lì fin dall'inizio addirittura prima perché la prima volta che io ho pubblicato documenti di Wikileaks era il 2009 quindi ancora prima che Wikileaks esplodesse perché sostanzialmente è successo questo che la fama di Wikileaks esplosa nel 2010 quando loro hanno pubblicato il famoso video collateral murder in cui si vedeva un elicottero a Pachi sparare sui civili inermi a Baghdad e successivamente hanno pubblicato i documenti della guerra in Afghanistan parliamo del 2010 però io avevo iniziato a lavorare sui documenti di Wikileaks nel 2009 e la prima volta che abbiamo creato questa partnership si chiama cioè questo rapporto di collaborazione con le testate era il 2009 con l'espresso e da lì io ho sempre pubblicato su Espresso Repubblica fin dall'inizio quindi ero lì quando c'era il Washington Post era lì quando c'era Le Monde era lì ero lì quando c'era Der Spiegel Allora The Guardian The Guardian ha avuto uno scontro con i cablo per la questione dei cablo quindi parliamo di novembre 2010 e è successo che praticamente The Guardian ha condiviso questi documenti con il New York Times Julian Assange non voleva il New York Times e da lì si è rotta una frattura Si è creata una frattura e si è creata questa frattura Sappiamo perché Julian Assange non voleva il New York Times Non voleva il New York Times perché si erano mostrati innanzitutto molto stili nei confronti della fonte Se la trattavano come una persona cioè quello che diceva Julian Assange questa è una persona che ha rischiato tutto ha lavorato ha fatto questa cosa per ragioni di coscienza Voi non potete trattarla da persona fragile che per una sua fragilità psicologica ha fatto questa scelta lui ha fatto una scelta morale quindi dovreste trattarla come uno che ha l'integrità di fare una scelta morale non come una sbandata che è in un momento di confusione psicologica Cioè parliamo di Chelsea Manning Sono due tra le più grandi fonti giornalistiche mai mai apparse nel firmamento giornalistico quindi sono veramente delle 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 Tornando un attimo a questi grandi quotidiani poi che cosa succede? Appunto il New York Times non lo voleva a bordo dopo quello che era successo come avevano trattato Manning come avevano gestito la pubblicazione dei cablo che erano andati subito dal governo americano e avevano chiesto il parere per pubblicare i documenti Insomma è assurdo tu lo devi controllare il governo non è che devi chiedere il permesso su quello che devi pubblicare perché devi essere indipendente devi devi svolgere un'azione di controllo non di sudditanza nei confronti del del governo Quindi si è creata subito questa forte spaccatura forte contrasto con questi grandi media però devo dire che noi abbiamo resistito invece io con Repubblica e con Corriere abbiamo e con l'Espresso abbiamo resistito per dieci anni abbiamo pubblicato tutto E la cosa bella di Wikileaks è questa che siccome loro pubblicano tutti i documenti funzionano così le partnership noi lavoriamo sui documenti le verifichiamo in parallelo alle verifiche che fanno loro quindi ci sono due due doppie verifiche quella che fa Wikileaks e quella che fanno i giornalisti Noi facevamo una verifica in parallelo verifichiamo i documenti cerchiamo le storie importanti le rivelazioni importanti noi pubblichiamo le rivelazioni l'organizzazione pubblica tutti i documenti quindi se c'è qualcosa che noi nascondiamo Il lettore lo scopre perché ci sono i documenti originali quindi se c'era qualcosa che infatti è quando noi abbiamo pubblicato i cablo poi eh quando sono usciti i cablo eh che i nostri concorrenti sono andati a vedere non hanno trovato nulla che avevamo nascosto perché perché sarebbe suicida nascondere qualcosa perché tanto esce quindi non abbiamo mai nascosto nulla e il lettore ha potuto verificare che quello che abbiamo scritto corrispondeva a quello che c'era nei documenti non abbiamo mai nascosto un nome non abbiamo mai nascosto un fatto proprio perché se c'è c'è la possibilità per il lettore di verificarlo quindi non abbiamo mai quando i nostri concorrenti sono andati a vedere sui cablo non hanno trovato nulla perché avevamo pubblicato tutto quindi da questo punto di vista io devo dire che i giornali italiani rispetto a quello che hanno fatto altri giornali tipo il New York Times che è andato a parlare con i giornali il governo e a chiedere l'autorizzazione per pubblicare questo o quell'altro noi abbiamo pubblicato tutto e abbiamo lavorato per dieci anni sempre in modo eh lo so perché l'ho fatto io questo lavoro quindi posso scusa Stefania un aspetto che potrebbe essere insomma però è una curiosità che qualcuno ma ma questi editori per pubblicare vi pagavano? beh io eh eh lavorando per loro ero pagata indipendentemente da loro pagavano la fornitura no 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 mai nessuno mai è importante mai nessuno mai nessuno e questo anche sconcertante che questi grandi giornali eh come il New York Times dopo aver preso tutti i vantaggi in modo puramente in modo puramente veramente generoso perché alla fine avrebbero potuto pubblicarli da soli senza eh fare eh nessun partnership nessuna forma di collaborazione quindi dopo che hanno preso lo scoop senza prenderci nulla senza che Julian Assange o Wikileaks ci guadagnasse un solo euro dopo che loro si sono presi tutti tutti i rischi perché hanno pubblicato di tutta questa documentazione e hanno regalato questi scoop a questi giornali questi non hanno mai pubblicato una parola a difesa sua cioè questa è la cosa sconcertante di questo ma non perché non perché uno eh diciamo deve ripagarlo in qualche modo però cerca di avere un po' di coscienza no? Cerca di avere coscienza tu hai avuto questi scoop hai pubblicato hai pubblicato queste cose importanti lui si è preso lui e tutta l'organizzazione si sono presi un rischio enorme tu sei garantito tu sei nelle stanze del potere che conta e non e non spendi una parola questo è sconcertante è veramente sconcertante di questa devo dire che qualcuno devo dire che qualcuno è stato il rapporto di sudditanza che c'hanno gli editori con il potere centrale è un rapporto di sudditanza diretto evidentemente dipendono da un potere centrale occulto al quale non non possono dire di no non è occulto non è occulto il direttore del New York Times l'ha detto proprio apertamente perché l'ha detto apertamente perché tanto sarebbe emerso con il Freedom of Information Act sarebbe emerso subito sarebbero emerse le sue conversazioni con il governo americano quindi ha pubblicato un libro e l'ha raccontato perché tanto anzi ha fatto la figura di quello che è trasparente perché tanto sapeva che sarebbe uscito quindi non è un potere questo è un potere segreto cioè è blindato dal segreto ho capito ma un conto New York Times è un conto The Guardian che dipende a sua volta da Downing Street e The Spiegel dipende è stata la Merkel e Le Monde è stato chi c'era Hollande non mi ricordo cioè c'è una cupola che ha influito una cupola internazionale che ha No io non la metterei su questo piano allora ci sono interessi ci sono interessi però per esempio eh Der Spiegel devo dire Der Spiegel è stato un giornale corretto ha pubblicato e ha anche scritto molto sulla sua situazione sulla sua condizione quindi eh fa non non scivoliamo sul non scivoliamo sulle analisi eh diciamo eh non generalizziamo perché ci sono stati comportamenti comportamenti diversi all'interno di questo gruppo c'è stato ecco ripeto chi come il New York Times eh non ha mai pubblicato una difesa non ha mai eh c'è invece chi ha avuto comportamenti diversi quindi eh il Guardian per esempio che per molti anni ha fatto una campagna contro lui adesso si è si è ricreduta esatto in qualche modo si è ricreduto perché perché si sono resi conto del pericolo perché se passa l'incriminazione sua se se finisce stradato lui finisce che tutti gli altri che possono colpire chiunque cioè se vi rendete conto che vuol dire che mettono in prigione sì perché si si crea si crea un precedente pericolosissimo per tutti i giornalisti centosettantacinque anni per aver rivelato crimini di guerra e torture vi rendete conto che significa cioè e vi rendete conto che significa che un giornalista straniero che pubblica i documenti di una potenza straniera di cui non c'entra nulla mica era sul suo territorio mica era sul territorio eh non è un cittadino americano non era sul territorio americano cioè se passa questo cioè perché un cittadino italiano deve rispondere cioè deve un cittadino italiano francese australiano eh irlandese deve deve rispettare le leggi sulla segretezza americane perché c'è una cupola no non è una cupola forse va bene avete deciso che è un argomento sfavorevole però a cupola c'è no non è una questione di cupola eh no se se non se uno non capisce quello che stanno facendo se non è una cupola che si chiama nato perché una serie di relazioni interne a difesa di 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 della 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 guida egemoni egemonica eh dei dei sociopatici del pianeta gli americani poi eh molte nazioni sostengono perché c'è la nato vabbè poi magari capisco che nel gioco della strategia diplomatica è meglio tenesse buoni un sacco di alleati a patto che siano alleati c'è mancherebbe altro altri alleati che si sono presentati e poi sono spariti almeno a a a a detta di quelli che non stanno a ridosso i russi che fine hanno fatto cioè Russia Today è andata lì per un mi ricordo quanto tempo io mi ricordo che stavo a Cannes nel 2012 2013 quando lanciarono in pompa magna questa cosa di Assange che da 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 dall'ambasciata faceva le dirette poi che cosa è successo sono spariti ma no ma il discorso è questo cioè in questa fase che devono voglio dire la Russia ha sempre coperto eh ha sempre eh ha fatto sempre una copertura mediatica del caso parecchio intensa perché perché per loro è una è una festa per loro poter dire ma lo vedete come trattate in giornalista voi ma come vi potete permettere voi avete incriminato in giornalista per aver rivelato crimini di guerra e eh venite a dare lezioni a noi che avete tenuto uno sette anni dentro un'ambasciata senza un'ora dare quindi loro ci fanno festa e purtroppo le sono così le gli inglesi gli Stati Uniti e gli inglesi sono così assurdi nella gestione di questo caso che non capiscono che gettano proprio benzina sulla propaganda russa che è felicissima di questo trattamento perché possono dire al mondo che presto manderanno quarantacinque dirette al giorno totalmente i vantaggi rispetto ai danni di immagine degli altri che potrebbero fare qualche cosa di più ma che devono cioè che dovrebbero fare lui è un procedimento giudiziario eh Stefania che potrebbero fare che lasciano sola a te a pochi altri no no nel senso è un procedimento giudiziario non è che eh non è che possono mandare le forze speciali russe no 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 ah ah no per tram mediatico lo potevano fare ma c'è molta copertura mediatica da parte dei media russi ma non per questo eh cioè innanzitutto la vediamo che tutto qualunque cosa dicono i media russi vengono liquidati anche quando dicono le cose giuste vengono liquidati come propaganda e quindi non le ascolta nessuno purtroppo perché sul caso Assange invece hanno detto cose giuste sul caso Snowden hanno fatto caso giuste perché senza senza la Russia di Putin purtroppo Snowden non sarebbe lì naturalmente è stato l'unico paese insieme ai tre paesi della dell'America Latina a dare a essere disponibile a dare l'asilo a Snowden e tutti gli altri paesi dell'Unione Europea gliel'hanno negato quindi anche quando fanno cose giuste per le peggiori intenzioni questo è un altro segno di cioè del fatto che c'è la guerra non è che questa cosa si può mascherare come a libertà di espressione queste sono manifestazioni di guerra da parte di un potere internazionale nei confronti di un combattente per la libertà nessuno 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 minimizza quel trattamento che fanno a Giulia Nassange il problema ripeto che essendo essendo un caso giudiziario stanno cercando di vincere gli appelli se non lo vinceranno speriamo che la mediazione internazionale speriamo che la pressione internazionale funzioni il problema è che il problema qual è il problema è che oggi c'è mobilitazione ma per anni non c'è stata il silenzio ha permesso di distruggergli la salute e quindi è per questo che è in condizioni così precarie di salute così precarie perché per anni c'è stato tanto silenzio intorno a questo caso e quindi non sentendo la pressione le autorità eh sì le autorità inglesi e le autorità americane non se me sono fregate l'hanno lasciato marcire dentro l'ambasciata sette anni e la sua salute è compromessa chiaramente allora Stefania sono le ventidue undici ufficialmente a riguardo c'è qualche fonte cinese che ha preso una posizione no la Cina è terrorizzata da un esempio come la Cina è cioè se la Russia ha una cultura in Russia sappiamo che c'è una cultura della dissidenza storica dall'unione sovietica no? la Russia la Cina non ha neppure quella la Cina è una società fortemente conservatrice dove la dissidenza è qualcosa che è trattata in modo molto molto diverso che dalla Russia ehm e hanno paura hanno paura di che cosa hanno paura hanno paura dell'esempio hanno paura che la eh il caso Wikileaks faccia faccia diciamo scuola in tutto il mondo e siccome anche loro hanno tanti segreti hanno paura che si alzi poi ci hanno avuto pure un periodo in cui Snowden stava a Hong Kong per cui stava a Hong Kong ma perché è andato via? Perché ha lasciato Hong Kong? Perché la eh probabilmente in tutta probabilità la Cina l'avrebbe estradato avrebbe concesso l'estradizione perché non era disposta a fare il braccio a infilare un dito negli occhi nell'occhio come la Russia quindi se fosse rimasto lì probabilmente l'avrebbe quasi sicuramente l'avrebbero estradato negli Stati Uniti non non erano disposti a eh a arrivare a uno scontro non è nella natura della Cina arrivare a uno scontro con gli Stati Uniti hanno hanno una tradizione della diplomazia dei commerci che non è quella dello scontro che invece ha la Russia con con gli Stati Uniti quindi non non gli avrebbero permesso di rimanere lì tranquillo non gli avrebbero dato sicuramente l'asilo quindi ha lasciato è andato via per questo bene eh dunque sono le ventidue e tredici eh avevamo detto che avremmo terminato intorno alle ventidue e quindici eh quindi adesso diciamo però è stato bravo ah sì sì certo se vuole fare un'ultima domanda quello volevo chiedere eh sì se 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 Stefania ha ancora che minuto ce l'ha dai un po' di respiro un po' di di fiato eh pensavo adesso no perché io penso che tu eh eh credo che ci hai riflettuto ci hai pensato eh prima l'abbiamo detto questo potere eh al di sopra di tutto che comunque magari gestisce persone eh che non hanno scrupoli io mi pongo questa domanda eh e naturalmente la giro a te eh secondo te gli americani hanno pensato di eh eliminare in un momento eh Julian cioè di di ammazzarlo come diciamo eh in altri episodi strani è successo è mancata la possibilità o non hanno voluto una cosa del genere da quello che noi sappiamo nel da grazie all'inchiesta spagnola quella appunto a cui facevo riferimento prima che eh siamo stati tutti spiati dentro l'ambasciata è immerso sono emersi due testimoni protetti che hanno raccontato che eh il titolare di questa azienda di sicurezza che eh il titolare di questa azienda di sicurezza che presumibilmente ha spiato tutti noi eh ha eh discusso la possibilità di avverinarlo o di lasciare aperta la la porta dell'ambasciata la notte in modo che venisse rapito con eh uomini dell'intelligenza dell'intelligenza americana questa è una testimonianza eh rilasciata da eh acquisita gli atti dalla magistratura spagnola e su cui la magistratura spagnola sta indagando quindi eh alla fine di questa inchiesta eh speriamo di avere delle informazioni fattuali su questo questi discorsi tra eh questa azienda e l'intelligenza americana eh di avvelenarlo oppure di lasciare aperta la porta la notte in modo che qualcuno potesse entrare e eh rapirlo e portarlo via quindi sono scenari molto inquietanti e chiaramente speriamo di avere informazioni solide grazie a questa inchiesta che è è in corso per cui non ancora non ho i diciamo gli esiti di queste indagini però c'è l'indagine in corso e è assolutamente è assolutamente qualcosa che potevamo aspettarci anche se devo dire il fatto che fosse estremamente noto eh sotto diciamo le luci dei riflettori eh l'ha protetto in una certa misura quando è che è diventato un obiettivo? Quando è cominciata questa campagna di demonizzazione? Eh io non dico che Julian Assange è perfetto io lo conosco molto bene alcune cose eh errori le ha fatti anche lui e io non ho problemi ad ammetterli alcuni eh li critico anch'io a me per esempio non sono piaciuti i messaggi eh diretti scambiati con eh con Roger Stone dopo la pubblicazione delle email eh dei democratici americani non sono piaciuti neanche i messaggi tra eh eh Wikileaks eh io non so se fosse Julian Assange in persona o se fosse qualcuno eh nello staff di Wikileaks perché l'account dell'organizzazione non so se i messaggi li ha mandati direttamente lui o chi li ha mandati non non posso dirlo io non c'ero lì a me non sono piaciuti quei messaggi però allo stesso tempo per esempio io difendo la scelta di pubblicare i documenti del eh dei democratici americani perché erano nel pubblico interesse quei documenti quindi io difendo la pubblicazione dei documenti eh diverso il discorso lo scambio dei messaggi a me non sono piaciuti anche se devo dire una cosa devo dire che eh se eh acquisiamo i messaggi di una qualsiasi redazione sotto le elezioni immagino che ci sono cose ben più ben più serie di quelli che hanno di quello scambio dei messaggi Comunque ehm non dico che Assange è perfetto eh ha ha fatto errori eh per carità eh però eh ha fatto anche cose molto grandi di estremo coraggio perché io ancora devo conoscere qualcuno che eh ha il coraggio di pubblicare documenti quando il Pentagono ti dice togli i documenti e ridarceli e loro dicono no io non ho mai conosciuto un editore che si prende il rischio di salvare Edward Snowden che avevano abbandonato tutti a Hong Kong era stato abbandonato Snowden ecco perché ha dovuto intervenire Wikileaks perché nessun altro si era assunto il rischio di aiutarlo quindi ha un grandissimo coraggio tutto quello che ha pubblicato è stato veramente importante ha rivoluzionato il mondo dell'informazione e del giornalismo tant'è vero che il modello Wikileaks viene ripreso viene oggi esistono la fuga di documenti è allora eh era qualcosa di di assolutamente scioccante oggi è la normalità escono continuamente anche se devo ancora incontrare qualcuno che ripeto pubblica i documenti del Pentagono quando il Pentagono gli dice rimuovili e ridarceli indietro quindi devo ancora incontrare qualcuno con quel coraggio quindi io assolutamente lo difendo difendo il lavoro che hanno fatto e che ha rivoluzionato il giornalismo e voglio che sia libero eh perché io ho pubblicato gli stessi documenti e nessuno mai mi ha mi ha arrestato nessuno mai mi ha interrogato nessuno mai mi ha incriminato io come decine di altri giornalisti io di più perché ho collaborato tutta la documentazione come decine di altri giornalisti e allora siccome ho una coscienza io non faccio finta di niente come fanno tanti i miei colleghi come fanno i colleghi del New York Times o di altri giornali e uso la mia posizione di sicurezza di persona che non è stata appunto né incriminata né interrogata per dire non non dobbiamo trattare una persona che ha rischiato così tanto per rivelare informazioni nel pubblico interesse in questo modo perché è una vergogna trattarlo perché è incompatibile con la libertà di stampa è incompatibile con la democrazia in una democrazia tu devi poter rivelare i documenti segreti sulle guerre devi poter rivelare i documenti segreti sulle torture perché sennò che democrazia è che stampa libera è quindi è per questo che io assolutamente fino fino a quando ci sarà bisogno io non starò mai zitta su questo caso e non cederò di un millimetro su questo caso proprio perché secondo me è in gioco la libertà di stampa così come deve essere in democrazia in un regime non lo puoi fare in un regime ti ammazzano se tu riveli documenti segreti su la criminalità di stato in un regime ti ammazzano o se ti va bene ti mettono in galera vita in una democrazia devi poterlo fare e farlo in condizioni di sicurezza ecco perché io assolutamente lo difendo e difendo tutta l'organizzazione non solo lui perché non rischia solo lui lui perché è chiaramente in prigione ma rischia tutta l'organizzazione in particolare Sarah Harrison la giornalista che allora lavorava per Wikileaks che ha aiutato Edward Snowden a ottenere l'asilo è volata a Hong Kong e l'ha aiutata a ottenere asilo lei in particolare in una prima di 40 giorni esatto ma che fine ha fatto Sarah Harrison a proposito perché non oggi non ripeto non lavora più per Wikileaks quindi quindi ha chiaramente avrà altri impegni immagino va bene Stefania io direi grazie per questo bel intervento grazie a Maurizio grazie a Glauco per questa bella chiacchierata che ci siamo fatti grazie a tutti coloro che sono intervenuti e grazie Stefania grazie a voi grazie per il tuo coraggio la tua passione e tutto il resto il nostro piccolo Stefania siamo a disposizione se ci chiedi qualche cosa se possiamo in questa in questa dimensione incredibile io non credo che ci vuole da parte mia non c'è nessun coraggio se non intellettuale io ripeto non ho mai rischiato nulla non ho mai le varie intimidazioni non sono così gravi i colleghi che lavorano sulla mafia sull'andrangheta sulla camorra Stefania la domanda è che tipo di giornalista vuoi essere no tu hai fatto una scelta noi ci aspettiamo spereremmo che tutti gli altri tuoi colleghi come i colleghi di Glauco e Maurizio insomma alzino la mano come dire ogni tanto quando serve specialmente in questa situazione tremenda l'atteggiamento dei giornalisti italiani a parte pochissimi è vergognoso proprio laidamente vergognoso beh il silenzio è vergognoso su questo caso è complice il silenzio è complice sempre è vergognarsi di appartenere alla categoria dei giornalisti ma non solo italiani ahimè purtroppo rispetto ad Assange e quindi bisognerà sempre mantenere alta questa bandiera e tu lo fai Stefania grazie mille buon lavoro attendiamo come dire trepidanti la tua nuova pubblicazione di questo libro che stai scrivendo che forse uscirà a maggio eh non ci direi niente però vabbè lo scopriremo più in là quindi ci abbiamo ci abbiamo tre 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 livelli l'appello la Corte Suprema e poi la Corte Internazionale Europea esatto sì la Corte Europea dei Diritti Umani speriamo che regga il pure Assange esatto esatto quello è il grande rischio esatto arrivederci grazie buonanotte ciao grazie grazie grazie